Un saluto a tutti i telespettatori di FWG Tech. Io sono Gabriele Gobbo e oggi voglio parlarvi di internet che non funziona più. Internet è davvero tutto per quanto riguarda le nostre vite quotidiane in moltissimi aspetti. Tutto questo dopo la sigla. FWG Tech. La tecnologia in tv. Un programma di Gabriele Gobbo. Ogni settimana una nuova puntata con ospiti nazionali e internazionali. Bene rientrati in studio. Questo è FWG Tech e io sono Gabriele Gobbo. Come dicevamo prima della sigla, oggi cerchiamo di capire cos'è internet ma soprattutto cosa succede nelle nostre vite quotidiane se ci dovesse mai essere un blackout globale della rete. Al di là delle problematiche di altissimo livello come le infrastrutture, le questioni governative o le cose dei, chiamiamoli così, massimi sistemi, cerchiamo di capire per noi cittadini normali cosa succede senza rete. Prima di tutto iniziamo con lo spiegare che cos'è internet, più o meno, ovviamente semplificando ma senza banalizzare. Spesso uno pensa a internet come il web, la navigazione, i motori di ricerca, i siti web che ci danno informazioni dove facciamo acquisti, oppure i social media dove ci scambiamo opinioni, ci incontriamo, pubblichiamo le nostre cose. Bene, internet non è solo quello perché oggigiorno attraverso internet ovviamente funziona quasi tutto, dalle banche alle mappe con cui viaggiamo ai sistemi di messaggistica, quali possono essere Telegram o Whatsapp e poi cosa c'è ancora che funziona. Anche i post vanno ormai quasi tutti attraverso internet ma scioccamente anche i nostri smartphone per la maggior parte dei loro servizi e delle loro app hanno bisogno di una connessione per andare a reperire dati sui server o comunque per andare a reperire quello che noi chiediamo. Moltissimi videogiochi, i nostri file quando li memorizziamo sul cloud, ad esempio le foto su un dispositivo Android attraverso i servizi di Google oppure tantissime piattaforme che utilizzano servizi di altri. Insomma, internet è la rete che collega ormai davvero tutto. Addirittura potremmo non riuscire a fare acquisti nei negozi perché le casse sono collegate a un database che sta in remoto per sapere i prezzi oppure non possiamo fare benzina perché nell'automatico il collegamento del POS o la verifica della carta di credito avviene tramite internet oppure non possiamo ricevere le consegne dei furgoni perché ormai tutti utilizzano un palmaro, uno smartphone, un sistema digitale per sapere dove andare a chiedere anche per farci firmare. Quindi banalmente non potremo forse quasi neanche ritirare una raccomandata perché le poste ci fanno firmare nel dispositivo digitale. Insomma, internet non è solo il web ma andiamo con ordine e per iniziare vorrei passare la linea alla nostra inviata digitale di oggi, diciamo così, chiamiamola virtuale anche se qui davanti ai vostri occhi è stata creata dall'intelligenza artificiale. Sia quello che dice, sia come lo dice, sia la figura dell'Avatar è stata, Avatar è stata animata grazie all'intelligenza artificiale. A te la linea. Grazie della linea Gabriele. Un saluto ai tuoi telespettatori, io sono una inviata digitale creata con l'intelligenza artificiale. Ecco un esempio di cinque servizi che non potremmo utilizzare in caso di un ipotetico blackout di internet. Al di là delle infrastrutture governative o problematiche globali più serie. Immaginate per un momento un mondo senza internet. Sembra impossibile, vero? Internet è diventato così integrato nella nostra vita quotidiana che molte delle nostre attività dipendono da esso. Ecco i cinque servizi principali che ci mancherebbero di più. Comunicazione e social media. Senza internet servizi come email, whatsapp, facebook e instagram non sarebbero disponibili. La maggior parte di noi utilizza questi strumenti per rimanere in contatto con amici, familiari e colleghi. L'impossibilità di comunicare facilmente e rapidamente sarebbe un grande ostacolo. Servizi bancari online. Molte persone gestiscono i loro conti bancari online, pagano bollette e trasferiscono denaro tramite app e siti web bancari. Senza accesso a internet tutte queste operazioni diventerebbero molto più complicate, costringendoci a visitare fisicamente le banche, che potrebbero comunque non poter operare senza rete. Servizi di navigazione e mappe. Molti di noi si affidano a Google Maps, Waze o altri servizi di navigazione per spostarsi. Senza internet tornare a usare mappe cartacee o chiedere indicazioni diventerebbe la norma, complicando notevolmente i viaggi quotidiani e i lunghi spostamenti. Servizi di cloud storage. Molte persone e aziende utilizzano servizi di cloud storage come Google Drive, Dropbox e iCloud per archiviare e condividere file. Senza internet non sarebbe possibile accedere ai documenti salvati nel cloud, impedendo il lavoro collaborativo e l'accesso ai propri file da dispositivi diversi. Lavoro e studio a distanza. Ormai è chiaro quanto siano cruciali i servizi di videoconferenza come Zoom, Microsoft Teams e Google Meet. Senza internet, lavorare e studiare da casa sarebbe impossibile, causando disagi a impiegati, liberi professionisti, studenti, insegnanti e lavoratori che dipendono da questi strumenti per le loro attività quotidiane. In conclusione, un blackout di internet avrebbe un impatto devastante su molti aspetti della nostra vita quotidiana. Dalla comunicazione alla gestione delle finanze, dalla navigazione ai nostri documenti online, fino all'istruzione e al lavoro, la nostra dipendenza da internet è ormai molto profonda. Per ora questo è tutto. A te la linea, Gabriele. Perfetto, grazie mille alla nostra intelligenza artificiale, anzi all'inviata digitale creata con l'intelligenza artificiale. Secondo me ha fatto degli esempi davvero molto concreti. Ovviamente lo abbiamo già ripetuto, lo ha detto anche lei. Non parliamo delle infrastrutture importanti e delle cose che fanno i governi, i paesi o le industrie enormi. Con internet parliamo della nostra vita, quella che abbiamo in mano con i dispositivi mobili o quando andiamo nei negozi. Insomma, una cosa da cittadini normali. Insomma, davvero, internet ormai permea le nostre vite. E se ci fosse un blackout, diciamoci la verità, è abbastanza remota come situazione. Ma nei mesi e negli anni scorsi sono successi dei piccoli, chiamiamoli piccoli perché magari in poche ce ne siamo accorti perché hanno colpito determinati servizi. Ma se dovesse succedere, sappiamo che il mondo potrebbe in qualche modo affermarsi, almeno per noi cittadini. immaginiamo quindi di svegliarci una mattina, proviamo a controllare il cellulare, che ad esempio anche l'orologio viene aggiornato in molti casi attraverso internet per avere sempre l'ora giusta e potremo magari quando cambia l'ora non avere l'orario giusto. Ma è un esempio estremo perché dipende da che cellulare avete. Però proviamo ad accedere a WhatsApp e non possiamo scrivere a nessuno. Ma l'abbiamo detto all'inizio. Ci sono cose anche molto più semplici per l'intrattenimento. Immaginiamo se vogliamo guardarci un film in streaming oppure vogliamo fare un videogioco ma apriamo le nostre app e non funzionano. Questo potrebbe creare dei disagi ovviamente molto leggeri rispetto ad anni più ingenti. Però dobbiamo immaginarci di vivere come possiamo dire negli anni 90, sebbene lungo il decennio sia iniziata la rete e si sia sviluppato. È stato un po' il decennio più importante per gettare le basi e gettare le abitudini di utilizzo di sistemi interconnessi. Una parola forse passata un po' di moda. Però potrebbe essere davvero un problema anche solo per poche ore. Potremmo avere dei ritardi nei treni oppure potrebbero non partire o non possiamo comprare il biglietto online. Oppure tutte quelle realtà che hanno dei dati che devono essere sempre aggiornatissimi interconnessi, i voli aerei ad esempio, ma anche solo i tabelloni probabilmente sono connessi in qualche modo alla rete. E poi delle piccole cose come perché no, i pannelli pubblicitari digitali non riceverebbero gli aggiornamenti e potremmo anche avere problemi con la pubblica amministrazione. Oggi ad esempio vuoi con la carta d'identità digitale, vuoi con lo speed oppure per ricevere una PEC. Se vogliamo fare o ricevere qualche informazione o qualche documentazione non potremmo farlo. Oppure vogliamo fare una scia che è un documento che serve per le attività di solito commerciali, l'inizio di una attività presso il proprio comune. Oggigiorno quasi tutti i comuni hanno l'obbligo di presentare questa documentazione solo ed esclusivamente online e quindi non potremo collegarci al sito e non potremmo fare l'inizio di dichiarazione di inizio attività. Un altro problema, insomma ogni giorno c'è qualcuno che inizia un'attività, i nostri commercialisti, al di là di tutto quello che gira via mail, che è palese, non arrivi, ma i nostri commercialisti o noi che vogliamo accedere al cassetto fiscale non potremo farlo. Se abbiamo un'urgenza perché c'è una scadenza potrebbe diventare un problema, non potremmo, abbiamo detto, fare i pagamenti. Oggi con un QR code si possono fare i pagamenti alla pubblica amministrazione, con l'app Io ad esempio paghiamo la mensa dei bambini all'asilo, possiamo pagare alcune tipologie di bollette, oppure vogliamo pagare una multa, non potremmo farlo. Non avremo tantissima informazione perché ad esempio nei giornali, nei telegiornali, tutto gira attraverso internet. Il giornalista non può ricevere e cercare informazioni, scrive l'articolo e non può inviarlo, magari da remoto via mail alla redazione. I computer spesso di chi impagina i giornali possono essere collegati attraverso la rete, viene impaginato in un luogo e poi stampato in un altro e il file non arriverebbe, ma anche radio, televisioni e tutti i mass media non avrebbero la possibilità di aggiornarsi in tempo reale, anche perché certe volte le telefonate vengono fatte via internet, un sistema e Whatsapp per telefonare all'estero senza avere costi. Insomma, dai giornalisti che devono darci le informazioni che non riescono a riceverle in tempo reale, fino a noi che non possiamo collegarci al nostro sito web preferito per leggere le ultime notizie, insomma saremmo un po' ciechi, verrebbe da dire, sordi e forse non potremo neanche girare più di tanto. Magari a mo' di battuta potrebbe essere un momento in cui ci prendiamo un attimo di relax. Sconnessi, non ci sono messaggi che arrivano, non dobbiamo leggere un sacco di informazioni, così non riceviamo magari tutto lo spam e la pubblicità per qualche ora. Però poi magari il blackout è molto lungo, un'ora, due ore, tre ore, cinque ore, magari ci prendiamo un attimo di relax a casa, magari arriva la sera, vogliamo guardarci un film o qualcosa è scelto da noi e non magari di quelli che troviamo già nelle trasmissioni lineari e non possiamo accedere, come abbiamo detto, e svagarci e guardare un documentario, un film o qualsiasi altra cosa. Vogliamo fare un videogioco, quasi tutti, l'abbiamo detto, ormai sono online e non possiamo farlo. Magari vogliamo scoprire qualche ricetta e non possiamo andare su internet, insomma è una cosa abbastanza leggera da dire, però secondo me è giusto cercare di immaginarci quanto il digitale, le connessioni e internet sia davvero parte integrante di tutti o quasi i processi giornalieri delle persone comuni come siamo noi. È un ragionamento molto importante perché ci fa capire che non è il digitale che vuole prepotentemente gestirci ma siamo noi che lo utilizziamo tantissimo. Quindi anche chi non utilizza la tecnologia comunque avrebbe dei problemi nella sua giornata e se il blackout fosse prolungato potrebbe quasi essere un problema globale. L'ho detto e lo ripeto potrebbe non succedere mai se non a settori specifici o a servizi specifici. Un blackout globale sebbene possibile al momento credo sia abbastanza remota come ipotesi e non entriamo nelle problematiche che potrebbero nascere se questo blackout fosse voluto da qualcuno perché sappiamo che la guerra ibrida, insomma la guerra, chiamiamola la guerra fredda attraverso la rete oggigiorno è una realtà abbastanza realistica. Detto questo spero la puntata vi sia stata utile, seguiteci su tutti i social network, non andate via, gettate il telecomando per guardare i programmi dopo di noi. Questo era FVG Tech, io sono Gabriele Gobbo e l'appuntamento è tra sette giorni. Ci vediamo la prossima settimana. FVG Tech, un programma di Gabriele Gobbo. Ogni settimana una nuova puntata con ospiti nazionali e internazionali. Guarda il programma on demand su web, youtube e tutti i social network.